Taglio del nastro per l'inaugurazione della nuova cabinovia nel comprensorio del Monte Catria. L'impianto permette di raggiungere la cima più alta della provincia di Pesaro e Urbino, a quota 1.400 metri, partendo da Frontone, Frazione Caprile. L'intervento, che è stato realizzato grazie alla partecipazione della provincia, amplia notevolmente il numero dei potenziali fruitori con ricadute turistiche su tutto il comprensorio montano. La tipologia di ammodernamento della tratta Caprile-Monte-Acuto ha permesso di creare un impianto unico in Europa. L'impianto Caprile-Monte-Acuto è dotato di 98 confortevoli cabine chiuse e biposto, con sedute all'interno e spazio esterno per alloggiare gli sci, che permette di raggiungere in un tempo prestabilito le piste in poco più di 20 minuti. Questo impianto è innovativo perché è stato riportato in Italia il Pulse, che è un sistema più che altro del nord Europa e della Francia, che funziona quindi il Pulse a intermittenza. Praticamente ci sono dei grappoli, i nostri sono formati da 7 cabine, abbiamo 14 grappoli su tutta la linea e queste cabine arrivano in stazione come adesso, adesso stanno uscendo, ma arrivano, rallentano, fanno fare il giro stazione a una velocità di 0,5 metri al secondo, quindi questo ti permette di scendere molto agevolmente e salire nello stesso modo. Annunciati inoltre altri progetti strutturali. Per la prossima stagione invernale speriamo di concludere l'altro stralcio importante del progetto, che è la nuova seggiovia che parte a 1250 Travarco-Monte Acuto, che ci permetterà di aprire quattro nuove piste, tutte superiore a un chilometro, la più lunga addirittura sarà di un chilometro e sei, quindi il nostro compensorio sarà appetibile, diventerà al top della regione anche dal punto di vista scistico. I lavori sono stati realizzati grazie a un contributo di 1.400.000 euro messi a disposizione per gli impianti a fune da parte della regione Marche. Avere un impianto rinnovato, con le telecabine chiuse, qui ricordiamoci fino a qualche anno fa erano tutte aperte, quindi una giornata come oggi col vento che tira diventava una sofferenza a salire, quindi più qualità, più opportunità di crescita e di lavoro. E siamo convinti che con gli impianti, con gli investimenti, noi diamo la possibilità di godere tutti quanti di questa bellezza. Altre novità invece riguardano i lavori di messa in sicurezza delle piste. Gli sciatori potranno godere dell'allargamento delle piste cotaline e direttissima, entrambe servite dalla nuova seggiovia Triposto.